60 giorni di tempo per continuare a lavorare, i contratti già sottoscritti ammontano a 350 milioni e garantire il posto a 360 dipendenti e un migliaio di persone che gravitano nell'indotto. La Salvatore Matarrese, S.P.A., società edile con quasi 70 anni di storia, ha presentato in tribunale la richiesta di concordato con riserva. Significa aver avviato un processo già da dicembre scorso di negoziazione con i fornitori e con il sistema bancario per ridare fiato a questa società, ai dipendenti di questa società. Con questi auspici noi abbiamo portato avanti questa procedura legale per salvare l'impresa dalle aggressioni giudiziarie imposte in essere da alcuni fornitori, non di questo territorio ma di altri territori. Lo squilibrio patrimoniale è di 11 milioni di euro, in pratica l'attivo è di 233, il passivo è di 244 milioni, dei quali fanno parte i 120 milioni di debiti con banche e fornitori. Per portare avanti le commesse e acquisire nuovi lavori, un ramo d'azienda è stato affittato alla Matarrese S.R.L. Chiariamolo, la vicenda dell'AS Bari c'entra o no? La vicenda dell'AS Bari è completamente diversa dal problema della Salvatore Matarrese e non ha alcuna relazione con questa situazione che è una situazione in itinere che ha delle vie di soluzioni che potranno essere trovate appunto se c'è la sensibilità ad oggi dimostrata del contesto del sistema bancario e dei fornitori ai quali rivolgo l'appello perché si possa davvero dare una risposta all'occupazione e ai lavori che questa impresa ha.